Costa Bissara, sei persone appartenenti a tre nuclei familiari dimoranti nel campo nome di comunale di via 4 novembre sono stati denunciati in stato di libertà per furto aggravato e continuato di energia elettrica. Il provvedimento è scattato a seguito dell'intervento dei carabinieri del radiomobile di Tiene che avrebbero accertato la manomissione dei contatori a disposizione del campo. I denunciati avrebbero così alimentato gratuitamente la propria rurrotta per almeno cinque anni per un danno secondo una prima valutazione dei tecnici Enel di oltre 6.000 euro.